Adesso siamo a Viareggio che sembra, sembra Miami, molto figo, adesso andiamo a mangiare qualcosa E vai di fish and cheese, guarda che bello, cosa sono questi bastoncini? Buono, mettici il limone però eh Fish and chips, l'abbiamo visto, uno dog, incredible, insalatone, chicken, un po' di pane, adesso manca poi il mio panino, secondo me abbiamo esagerato ancora, anche stavano, no, a posto Siete pronti? Braaa Guarda, guarda, anche con i decolling in sottofondo Ci sta Ma non si vede un cazzo Effettivamente non avevamo abbastanza, un bel milkshake, è catalana, questo è bellissimo cazzo C'è un bel ventosello, oddio, guarda eh, guarda, guarda che ti faccio vedere È enorme, non sembra ma è cicciolissimo Ciao C'è un'altra Sì, 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 sì. C'è di vantaggi, Madonna. Perchè il suo amico, Michal. No, la Madonna. La mia vita devo sempre solo fare delle scale, non so, qualsiasi posto, vada, scale, scale. Scalini, camminamenti di ronda, arriveremo, buah. C'è un vento che se volo via, se apro la giacca volo come è tutta larga, aiuto, Madonna. Siamo arrivati al 2 gennaio, come al solito, 16 gradi. se non ci fosse il vento ce ne sarebbero 18 poi a marzo ci avremo 6 metri di neve adesso andiamo a fare una bella capatina e dopo tutti i tuoi monumenti tutti i tuoi posticini adesso andiamo a dove dico io guarda la bellezza già così profuma già questo posto profuma di macchine buttate così a random capannoni brt corriere espresso purtroppo sarà chiuso oggi guarda le case di rocca ma questi sono i posti da visitare guardala perfetta aspetta che appoggio sta macchina no perché intanto così faccio anche la pipì la faccio qua guarda questi sono i miei posti io devo stare al mondo così guarda qui guarda qui che bello cosa inquadri cosa inquadri che bellezza che ending di video aspetta mia che ti tolgono un rene qua dopo faccio la pipì grande mamma mia secchissima madonna intanto a casa mia è meno 4 c'era stamattina qua ragazzi 13 gradi si sta da dio non c'è neanche il vento e questa ah la sta mettendo a posto grandissimo aspetta va che allargo un po' lo vedi l'altra Torino guarda queste ragazzi sono per chi è interessato se non ci siete mai venuti girare pontremoli sempre caldina e non è male carina carina cortina abbastanza veloce anche i saltini guarda qua ci sono i doppietti bebe 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 ma si è da cambiare ogni tanto ci si sta poi ripeto c'è sempre caldino boh sono proprio contento pesce vuol dire che ha finito la bella lisciatina io intanto colgo l'occasione sono fermato a fare un giro per vedere com'era la situation così vengo a girare faccio una bella pisciatina qua noi ci vediamo alla prossima guarda la fiera si è tarona guardala rossissima ciao a tutti ciao ciao